Ciao ragazzi! Oggi, il 6 dicembre, vediamo se tiriamo fuori dal sacchetto. Cioccolato! Oggi facciamo una torta al cioccolato. Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Grazie a tutti. 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 Mi raccomando, il forno scotta tantissimo. Quindi molta attenzione che dalla mamma, papà, la mamma, il carino vicino, chiunque, ma non fatelo da soli. Guardate quanto è bella. Ah, scotta, prima di decorarla aspettiamo che si raffreddi un pochino. Ciao, eccoci qui con il nostro amico, come ti chiami? Vai, vai in giro, la torta ora è raffreddata e pronta per essere decorata. Vediamo se si apre. Ecco, ora assaggeremo la nostra torta. Buonissimo. Buonissimo.